gentili telespettatori buona giornata il libro di giorgia meloni io sono giorgia edito da rizzoli e alla quinta edizione pensate un po è già la quinta edizione e ha già raggiunto una tiratura record da 100.000 copie quindi possiamo ipotizzare che ogni edizione abbia circa 20 o 25 mila copie quindi 100.000 copie dopo una settimana e il libro affronta temi suoi personali la sua identità le sue fedi politiche e tutto quello che concerne anche la sfera privata quindi sono passati solo dieci giorni è un libro di 336 pagine 18 euro balzato al secondo posto della classifica dei libri più venduti della settimana nella top 10 stilata da nielsen il volume sugli scaffali dall'11 di maggio infatti secondo in classifica con una tiratura di 100.000 copie e 5 edizioni secondo i dati forniti da nielsen alla dn kronos il volume preceduto sul podio dal romanzo di lucinda rilei la sorella perduta new entry svettata in cima alla classifica io sono giorgia è un libro autobiografico scritto proprio dalla presidente di fratelli d'italia in cui meloni racconta episodi inediti della sua vita dalla passione per la politica alla gioia dell'essere madre e poi il volume affronta anche in modo schietto e senza sconti argomenti di diverso di diverso tipo parlando sempre del libro di giorgia meloni viene fuori un caso strano e si colpisce come questo caso venga probabilmente costruito ad arte strumentalizzato si presenta un libro il libro di giorgia meloni viene presentato in una scuola giorgia meloni quando lo sa dice io tra attraverso il suo ufficio stampa non ho mai ricevuto l'invito a presentare il libro in un istituto superiore a messina e sottolineo la mia contrarietà a qualunque imposizione di eventi politici agli studenti nelle scuole infatti quando ho sentito questa notizia ho detto non ci credo che giorgia che giorgia meloni abbia abbia lei stessa pensato di andare in una scuola una scuola superiore per andare a presentare il suo libro libro che non parla dei temi scolastici ma che parla della vita personale sua non parla né che parla di politica diceva parla di poli no parla è un libro autobiografico ma secondo voi giorgia meloni andava a presentare il suo libro in una scuola superiore non ha nessun senso come lei stessa giustamente lo dice allora si capisce che c'è qualcosa di strano probabilmente qualcuno ha voluto presentare questo libro a scuola e questo libro poi l'assistenza alla presentazione di questo libro poi sono dei crediti e che cosa sono i crediti ve lo spiego anch'io ad esempio io quando io insegno in scienze politiche materie economiche e italiano in arte e filosofia e quando c'è una conferenza e gli alunni assistono a una conferenza può essere una conferenza una presentazione di un libro ogni conferenza da diritto a dei crediti nell'arco dei tuoi studi devi portare dei crediti non so cinque punti per una conferenza sei punti per una fiera non so ci sono dei questi questi punti alla fine della tua carriera prima di avere il diploma la laurea tu devi dimostrare di aver partecipato a un certo numero di eventi che ti danno dei crediti senza quei crediti tu non ti puoi diplomare laureare eccetera eccetera probabilmente questa scuola avrà detto è obbligatorio assistere a questa presentazione di questo libro perché ci sono dei crediti che voi servono per il vostro curriculum quindi presenza obbligatoria con crediti ma questa presenza obbligatoria non era chiesta da fratelli d'italia la presenza la presenza obbligatoria per i crediti è una roba che 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 decide l'istituto scolastico non giorgia meloni è il libro chi la prese voleva presentarlo pertanto giorgia meloni dice io non ho ricevuto nessun invito ma dobbiamo dire che la presentazione di questo libro era era realmente ed è realmente in programma non so perché la presentazione di questo libro in una scuola però giorgia meloni non era stata invitata e non lo sapeva neanche dal 1968 in avanti la scuola italiana è stata permeata ecco del pen dal pensiero di sinistra parte del dei docenti del corpo docente l'orientamento dei programmi assunto una precisa direzione ideologica dal 68 in poi intere generazioni di studenti sono stati costretti a ad ascoltare a vedere occupazioni assemblee autoprogrammate programmi extracurricolari con un preciso orientamento politico culturale nelle scuole poi non si contano i convegni le presentazioni di libri le conferenze a cui hanno partecipato giornalisti intellettuali personalità di sinistra negli ultimi anni senza che nessuno dicesse nulla eppure la scuola dovrebbe rappresentare un luogo di dibattito e discussione in cui la libertà di parola ed espressione è garantita a chiunque e dove gli studenti possono costruirsi liberamente una propria opinione e così fa molto clamore l'iniziativa prevista per martedì 25 maggio all'istituto economico statale Antonio Maria Iaci di Messina dove era in programma la presentazione del nuovo libro di Giorgia Meloni io sono Giorgia a seguito di una circolare inviata agli studenti invitando l'intera comunità scolastica pene il mancato riconoscimento dei crediti formativi previsti come vi raccontavo prima e così è bastato parlare di un libro scritto da un politico di centrodestra affinché si creasse un caso con tanto di comunicato dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani e un'interrogazione parlamentare annunciata dal caro Fratoianni ma quanti libri di politici di sinistra avranno presentato dal 68 fino al 2021? tantissimi, solo che nessuno dice mai nulla perché come vi dicevo prima la scuola è stata abbastanza impregnata dell'ideologia di sinistra ma questo poi lo abbiamo raccontato in altri video eppure l'ufficio stampa di Giorgia Meloni ha smentito categoricamente la partecipazione di Giorgia Meloni alla presentazione del libro organizzata dall'istituto il prossimo 25 maggio precisando che il presidente Meloni non ha mai neanche ricevuto un invito a questa iniziativa e non avrebbe in ogni caso accettato ritenendo da sempre che la presenza degli esponenti politici nelle scuole non possa essere in alcun modo imposta agli studenti e su questo sono d'accordissimo anch'io io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata